La Lega nel Terramano ha ottenuto il 33,16% e 46.709 voti, rendendo di fatto quella di Terramo la prima provincia leghista in Abruzzo. L'ex sindaco di Campi, ricordiamo, è stato il primo sindaco abruzzese che ha aderito alla Lega. Il carroccio ha raggiunto un risultato impensabile all'inizio della campagna elettorale e Pietro Qualesimale, con quasi 9.000 voti, è stato il più votato da Abruzzo tra le file del centrodestra e il secondo a livello assoluto. Un grande risultato, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia, veramente tanti, 8.838, come diceva lei, il primo della coalizione di centrodestra in Abruzzo, quindi sono veramente felice. Il lavoro che ho fatto in questi anni nel ruolo di sindaco sicuramente mi ha ripagato. Adesso c'è da lavorare, mi impegnerò come ho sempre fatto, ascoltando la gente. Sono felice perché è stata la vittoria di tutti, la vittoria dei cittadini, i cittadini che mi sono stati vicino. Quindi sono contentissimo e adesso non vedo l'ora di iniziare. C'è qualche delega in particolare che lei vorrebbe avere? Allora, già ieri abbiamo fatto un primo incontro con il segretario federale, nonché il ministro degli interni, Matteo Salvini e Marsiglio. Lo stesso ministro Salvini ha detto che si farà subito la giunta, adesso ci sentiremo con il governatore Marsiglio e inizieremo a ragionare sulla giunta. Per quanto riguarda le deleghe, il turismo sicuramente a me piace perché ho fatto già un ottimo lavoro a Campli, però dobbiamo pensare come priorità assoluta la ricostruzione a Teramo che è completamente ferma, l'abbiamo detto in campagna elettorale e dobbiamo veramente puntarci perché la gente vuole delle risposte immediate e io voglio contribuire insieme agli altri della coalizione ad accelerare le procedure burocratiche che sono completamente ferme.